Eccoci, eccoci, eccoci boys Allora Dai, prendiamoci questo Eeeh Oddio, sta skin in Zed, what the fuck Eh, ho preso Lilia perché Avevano avrato Zed e Kiana Quindi serviva P-Damage, poi abbiamo preso anche Ziggs Ma comunque alla fine Lilia meglio Cioè, è vero, 3 pro di Un'AP, no Si può fare, ma Anche meglio così, in quanto a Gank Vediamo un attimino com'è la situazione Quando siamo messi Ima era fantastico come lane, credo Vabbè, oddio, in realtà Mid bot dovrebbe essere gankabile Dobbiamo evitare far prendere stacca a Draven Ok, ok Eeeh Dove, dove l'ha sentita questa notizia? Dove l'ha sentita? Ciao Jumbo, come stai, buon D? Grazie dei 22 Il primo è la giornata Grazie, grazie Occhio che bot può ancora arrivare E' il Nunello Provo a gankare bot Utilizzo l'acqua di nuovo perché Così mantengo la speed E ci prendiamo la prima doppia Ci prendiamo Summer the Draven Flash the Draven Penso le altre summer le abbiamo già utilizzate Nice, nice Abbiamo interrotto il campo ma ne valsa la pena Yoshi inizia il tank Dai che il Draven ti hitta dai Che non lo sto giocando sulla side sbagliata Trash ha ancora il flash Adesso non ce l'ho più Draven perde altre risorse Oh Se muore per Godo Se muore per la mia pallina Godo No zigza trollato C'è in uno Dai bro ma Puoi veramente mi stare ottenuto le spell Perché voler giocare agro insomma Grazie Leo Benvenuto Magari tra un po' cerchiamo di farci Draghetto Diamo se riusciamo No Peccato Facciamoci il Drago Che alla fine Sempre utile Ci raccomiamo due pevroni per il mana Draghetto preso 50 all'herald Jace pure è morto Non male Non male Uè ma io ho già la maschera Allora facciamo Tre campi Quattro se c'è lo scatto E regoliamo con item Perché non c'è lo scatto Quindi watch out A differenza Allora io lo smite empowered Uno non ce l'ha E' vero che non ha lo smite Innato Ok that's kinda big Non male direi Siamo riusciti a rubare pure l'herald Per ora ci limitiamo A clearare bot Potremmo pensare Di invadere E' l'unel In realtà In realtà è ok Ma l'uno dov'è? E non è qua Come fa a non essere qua? Boh Potrebbero arrivare Trash l'uno Ma io comunque Con la possibilità staccata Quindi Mergerò mi grabbo Da qua dietro Cosa non dovrebbe succedere Dovrebbe essere Totalmente fine Let's go Dobbiamo piazzare anche l'herald Ora vediamo Dove piazzarlo Tra un attimino Vediamo Non ho pensato A ricompensa Per i subgift I mean Not really Hello Buondì Vai dai Lo interrompo il campo Va bene anche lui Oh boy 3 per 0 Abbiamo fatto Le palline Pulite Comunque Template così di qualità Non l'avete mai visto Quindi Già questo Dovrebbe essere Un motivo sufficiente Ehm Vabbè Prendiamo questo Vediamo tornare bot Dietro abbiamo bot C'è il dragon 20 Salve Come state boys? Vabbè Mazziamole anche bot Il trash Ci tiene a morire Vedo Lo smitiamo così Bam Poi andiamo a mettere Herald mid Dopo il drago Vabbè Comunque dovrebbero fare FF al quindicesimo Ormai Stiamo Stiamo bollando Un po' troppo Stiamo Vado a poggiare Mid Aspetta Oh what? Se sono in fight Col dre Ma perché Hai bugato il mio herald? Mi sei ancora in fight The actual fuck Sai che non lo potevo pure ultare Mi sa che lo ammazzavamo Vabbè Non rush alla fine Facciamoci questo Tanto la torre cade comunque La passiva maledetta sul drago Mi piace di piazzare l'herald Stava trollando Ha visto la nuova patch Distruggono la giungla Ancora Cosa fanno la jungle Questa volta Raccontami Raccontami Cosa fanno La nostra bovra jungle Non è solo Cosa fanno Cosa fanno Non è stato La gente Non è proprio Noo Che stai Non è proprio Ah Ho sbagliato Raven flash 1000 gold Sui avversari Potrebbero anche non surrendare Tryhard Vediamoci questo Losable Sono stato abitato Ma sapevo dove c'è stare Raven Sono fatto un po' Abitare come un polletto Ainda clean Che danni Comunque Jason Mi ha piu' rotto proprio Jason Ha un cazzo di senso Giochiamo per drago Così evitiamo di trovare Ok For this Prima partita Prima win Let's go Ieri la prima win Non l'ho portato benissimo Devo dire ma Oggi sarà Differente Via Aspetta che sposto questo Dove sta? Mi triggera Si mi sembra Un tantinello Più centrato Vogliamo la chiana Anche se Ah Qua l'honor funziona al contrario Mi ero quasi dimenticato No Come l'honor Se funziona al contrario Non buono Se li linkate Linkate qualcosina Volentieri Intanto Prima di vedere i prossimi Quelli della prossima patch E comunque 3 o 2 settimane Dovremmo dare uno sguardo Alle patch notes di oggi Ciao 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 Ciao